Questa è Bologna, quei portici, questi vecchi puttanoni che ti ricordano quel colito orale, eccetera, e poi c'è quella specie di capostazione, siccome per Bologna avremmo uno smistamento di treni, che è andato in pensione e lo sta alla finestra e guarda tutto quello che avviene fuori ancora nella città. E' una città grassa, una città piacevole, una città a passeggiare se ti posso, e ancora per me Bologna.